Musica Amici sportivi appassionati di pallamano ben ritrovati Nuova puntata, penultima puntata stagionale della Casa della Palla a Mano Il format dedicato alle attività all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti Sono attività che hanno riguardato, che continuano a riguardare il Campus Italia La squadra federale che ha concluso il campionato di Serie A 2 Lo ha concluso con un'ottima vittoria, 42-20 contro la formazione della Verde-Azzurro-Sassari Ma non solo, non soltanto Campus Italia perché all'interno del Centro Tecnico Andranno avanti anche le attività legate ai club con le FGH Finals In modo particolare di Serie A 2 maschile È il momento di parlare di tutto questo, non soltanto con i nostri servizi Con i nostri approfondimenti, ma soprattutto con i nostri ospiti Qui al mio fianco in studio saluto con grande piacere il vice allenatore del Campus Italia Pasquale Maione Ciao Matteo, grazie nuovamente per l'invito e buonasera a tutti Protagonista invece annunciato delle prossime FGH Finals della Serie A 2 maschile È il centrale abruzzese originario di Città Sant'Angelo Ma in forza alla formazione marchigiana dalla Santa Rally Cingoli Emanuele D'Agostino Buonasera, ciao a tutti Ciao, ciao Emanuele Partiamo dal Campus Italia Cominciamo dalla stagione che si è conclusa per quanto riguarda il campionato di Serie A 2 Campus Italia che ha battuto, come dicevo, la formazione della Verde-Azzurro-Sassari Col finale di 42 a 20 lo scorso 7 maggio Ottima prestazione per chiudere al sesto posto il campionato La stagione però non finisce qui naturalmente perché il Campus Italia con i suoi atleti principali Guarda ai campionati europei in parte sia quelli under 20 ma soprattutto quelli under 18 di agosto E allora fino a metà giugno proseguiranno gli allenamenti Poi testa agli impegni delle squadre nazionali Facciamo il punto nel servizio Stagione conclusa sul velluto Sì, perché non c'è niente di meglio di una vittoria Con 22 reti di scarto contro la terza forza del campionato Per chiudere col sorriso la prima esperienza nel campionato di Serie A 2 I ragazzi del Campus Italia salutano il girone B con un netto 42-20 a spese della Verde-Azzurro-Sassari Bis del successo ottenuto nella partita di andata giocata in Sardegna Ora come allora il Campus Italia offre una prestazione maiuscola Sciolti, sicuri, in palla I ragazzi della squadra federale conquistano la 14esima vittoria stagionale E chiudono il campionato al sesto posto C'è stato tutto in questo primo anno del Campus Italia Nuova vita, nuova casa, nuova scuola Sconfitta inaspettata, vittorie prestigiose E prestazioni altalenanti tipiche di una squadra fatta interamente di giovanissimi Il percorso comunque non si ferma Riccardo Trellini ha già in serbo due amichevoli nel weekend Sabato in Veneto contro l'Arcom Formazione di Camisano Vicentino che giocherà i play-off Promozione per la Serie A Beretta E poi domenica in Emilia-Romagna sul campo della Ferrara Tappe anche queste di quel cammino che dovrà condurre ai match degli europei Under-18 Dal 4 al 14 agosto la nazionale sarà a Podgorica per sfidare i padroni di casa del Montenegro La forte Croazia e il Portogallo Priorità? Evitare le ultime tre posizioni della classifica finale E rimanere fra le 16 squadre migliori d'Europa Nel frattempo il Campus Italia proseguirà fino a metà giugno Poi terminata la scuola, ritorno a casa senza staccare però troppo la spina Per alcuni dietro l'angolo c'è la convocazione con i più grandi dell'Italia Under-20 Di scena agli europei di categoria a luglio in Portogallo Sarà un unico e grande sprint verso l'evento di agosto in Montenegro Appuntamento da non fallire per alcun motivo E allora Pasquale Maione è tempo in parte diciamo di bilanci Di tirare una linea perché comunque la stagione è andata agli archivi Sesto posto ne parlavamo anche a microfoni spenti ma lo dicevamo anche nel servizio Sconfitte inaspettate visto vittorie prestigiose Una di queste è quella contro Sassari La sconfitte inaspettata due settimane prima in casa contro Casal Grande che poi è retrocessa Sì sì Matteo come hai spiegato bene tu nel servizio una stagione alternante Ma io credo che dovevamo tutti aspettarcelo perché quando hai a che fare con ragazzi di 17-18 anni Che per la maggior parte di loro è la prima volta che affrontano tra virgolette da titolari Un campionato di A2 è normale Ora io credo che noi siamo quelli che abbiamo giocato contro Sassari Perché quando una squadra riesce a fare questo tipo di prestazione non è mai un caso Vuol dire che dentro queste cose si hanno Ora bisogna però tirarle fuori tutti i sabati e non qualche sabato E detto benissimo le ultime due partite in casa contro Casal Grande e contro Sassari Secondo me proprio sono il succo della nostra stagione Dobbiamo cercare di orientare le nostre prestazioni chiaramente verso la partita che abbiamo fatto contro Sassari Che è la quarta forza della classifica del campionato E noi sia l'andata che il ritorno abbiamo fatto veramente due partite super contro di loro Adesso si va avanti tra l'altro dicevamo che ci sono queste due amichevoli in Veneto Poi si proseguirà fino a metà giugno di fatto Sì sì Matteo adesso inizia il bello perché tutto il nostro percorso fatto fino adesso Era proprio per l'obiettivo finale che sarà di quest'estate Faremo l'ultima partita il 14 agosto lì sarà tempo di trarre le somme Ora ripeto inizia il bello iniziamo con queste partite già di livello Queste due amichevoli di livello E poi inizieranno i vari appuntamenti con le varie nazionali di categoria E il caldo ci aiuterà a far bene perché adesso col caldo sicuramente cambia un po' tutto Io sono stato un ex giocatore e sembra una cosa stupida Ma purtroppo anche con l'arrivo dell'estate c'è da fare i conti E qui anche i ragazzi potrebbero pagare questa cosa qui Oppure viceversa magari avere questa gioia che l'estate ti porta dentro e trasmetterla in campo E di questo andamento un po' sinusoidale diciamo nella stagione del Campus Italia È stato testimone anche Emanuele D'Agostino Perché Emanuele li avete affrontati all'andata in casa Era la terza o quarta partita di campionato del Campus Sì giornata stagionale per i ragazzi del Campus Italia e non c'è stata partita Poi quando siete tornati al girone di ritorno nella casa della Pallamano Avete sudato invece avete vinto solamente di misura Nonostante Cingoli sia stata capolista indiscussa di questo girone B Ma guarda sicuramente c'è da fare i complimenti a questi ragazzi E allo staff, a tutta la federazione Perché il lavoro che è stato fatto fino ad adesso è stato super secondo me Perché io mi ricordo benissimo l'andata E vincemmo con facilità Come penso è normale che sia Poi il ritorno ho visto una squadra totalmente diversa Giocatori con molte più responsabilità Una squadra molto più organizzata Ragazzi che sapevano cosa stavano giocando in realtà E quindi questo sicuramente fa onore a tutta la squadra A tutto lo staff, a Riccardo Trillini, a Maione, a tutti Obiettivo naturalmente puntato come dicevamo sui campionati europei di quest'estate 4-14 agosto l'intervallo di date Si giocherà a Podgorica, Italia che parte tra le migliori 16 squadre d'Europa E che ha l'obiettivo prioritario di rimanerci Questo vuol dire evitare assolutamente le ultime tre posizioni della classifica Facciamo il punto dopo la partita vinta contro il verde-azzurro Sassari Lo ripeto ancora, è stata l'ultima giornata stagionale per quanto riguarda il campionato di Serie 2 E ascoltiamo l'intervista al direttore tecnico Riccardo Trillini Adesso inizia il lavoro, insomma Cioè quello di preparazione degli europei veri e propri Al di là di questa bella esperienza che è servita per cementare e per creare questo gruppo No, infatti cambia il lavoro Perché fino adesso ne abbiamo fatto tantissimo Dal punto di vista formativo, tecnico, fisico Ma è sempre un po' spostato verso l'individualità Ora da un po' che cerchiamo di mettere insieme un po' la tattica individuale, le scelte E devo dire che oggi i ragazzi dovrebbero rivedere la partita due o tre volte Perché è stata una partita spettacolare, stupenda Hanno giocato benissimo Sostenuti da un portiere al quale faccio i complimenti Perché quest'anno è stato abbastanza anche in panchina E oggi ha fatto vedere che merita di giocare E ha sostenuto una squadra che si è espressa nella maniera migliore Hai ruotato un po' tutto il gruppo a tua disposizione questa sera Hai cercato di dare più spazio un po' a tutti quanti questa sera Cerchiamo di farlo sempre Chiaramente alcuni giocatori quando giocano molto bene Non li sostituisco Ma se la loro prestazione è nella normalità Cerchiamo la rotazione degli altri per tenere questo progetto sempre con un senso Perché noi formiamo giocatori più che dobbiamo vincere per forza una partita o un campionato Per cui questo lo facciamo sempre Ma oggi è stato naturale anche perché la partita si è messa in un certo binario Ed era facile anche fare i cambi Come proseguirà adesso il lavoro in previsione proprio di questi campionati europei? Allora innanzitutto il campus continuerà fino al 10 giugno Nel frattempo faremo degli stage in mezzo alla settimana Chiamando i 4 o 5 giocatori della nazionale Andericiotto che non fanno parte del campus Purtroppo non tutti i ragazzi del campus saranno convocati in nazionale Per cui per loro finirà la stagione il 10 giugno Mentre per gli altri saranno quasi impegnati fino al 14 agosto Dico così anche perché almeno 6 di loro saranno nel roster della Juniors e dell'Under 20 Per cui saranno fuori sia con una che con l'altra da nazionale Alessandro Lubinati, ottima la tua prestazione questa sera contro la formazione da Verde Azzurro Sassari Sì, volevo concluderla al meglio Volevamo concludere al meglio davanti al nostro pubblico, al pubblico di casa E ce l'abbiamo fatta alla grande battendo i 22 Un'ottima squadra Si è chiusa qui quest'annata ufficiale, con gare ufficiali diciamo per il Campus Italia Continuerà fino al 10 giugno il lavoro qui a Chieti di questo gruppo Qual è il tuo bilancio personale? Come hai visto questo tipo di lavoro che ti ha visto protagonista in questo gruppo? Sicuramente capeggiato da alti e bassi Potevamo fare sicuramente molto di più Soprattutto nel finale di molte partite Siamo stati sfortunati anche dal punto di vista di molti infortuni Però ce l'abbiamo fatta e abbiamo concluso l'ultima parte di stagione al meglio Le tue prospettive per il futuro? Di continuare ancora così, siamo un gruppo unito Molto forte e che sicuramente con il tempo si rafforzerà sempre di più E i risultati arrivano e arriveranno Maio, da dove sono partiti questi ragazzi? Da un punto di vista anche sportivo, non solo umano Perché questo è un percorso anche umano Ma partiamo da quello pallamanistico Da dove sono partiti ad agosto e che squadra abbiamo in mano in questo momento? Guarda Matteo, io penso che come abbiamo detto I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti Io però sono abituato a guardare al futuro, non al passato Nel senso, io ti dico che vedendo questi ragazzi tutti i giorni Ancora loro stanno nel 40% delle loro possibilità agonistiche Noi li vogliamo portare, non dico al 100% Ma vogliamo alzare il loro livello il più possibile Sono convinto di questo Sicuramente il miglioramento è stato netto Ma anche perché quando unisci un gruppo di ragazzi nuovi E poi è facile, non è solo merito nostro E soprattutto merito loro Noi abbiamo solo cercato di dargli una strada Loro l'hanno capita, l'hanno imboccata bene e anche velocemente Ora però, ripeto ancora una volta Secondo me devono fare questo salto di qualità Con queste partite a livello europeo Che sono queste partite che ti fanno crescere a livello internazionale Cambia tutto E loro devono approfittare di questo momento A prescindere dal risultato Ma per poi diventare giocatori E da un punto di vista invece umano Ricordiamo che questi ragazzi hanno cambiato la loro vita completamente Non era così scontato che tutti si trovassero bene a Chieti Bene in una nuova scuola Bene tra di loro Perché vivono insieme Com'è andata da questo punto di vista? Le hai lasciate i ragazzini? Le hai ritrovati ometti? Tra virgolette Sì, sì, sì Anche qualcosa in più di ometti Veramente basta solo guardare le foto d'inizio anno E vedere le loro facce come erano e come sono Hanno tutti lasciato la mamma E quindi sono diventati per forza di cose grandi In senso letterale In senso letterale Sì, sì Ragazzi proprio sono diventati uomini Piccoli uomini Hanno molte più responsabilità anche sulla vita privata Anche il fatto di dover mettere la sveglia la mattina Senza nessuno che ti viene a svegliarsi Nessuno mai ci ha dato problematiche al di fuori del campo Sulla vita normale Veramente ragazzi con la testa sulle spalle Si dice no Questo gruppo è una famiglia A volte si dice così tanto per dire Ma noi Veramente Io ho tre figli a casa Più altri 18 figli qui Perché li tratto proprio come figli, amici E loro in campo ti danno rispetto E fuori dal campo Invece abbiamo creato questo spirito Che per me è proprio le condizioni ideali Per lavorare bene E tutto questo ci ha portato anche a vedere Grandi giocate Perché stiamo parlando di grandi talenti Nell'ultima partita contro la Verde-Azzurro Sassari Sono arrivate due chicche Una di Cristian Manolovic E l'altra direi del solito Tommy De Angelis Vediamo Palla qui sulla linea degli esterni La volé Il tiro del gol Primo gol Quindi ad opera del Campus Italia Ad opera di Cristian Manolovic Per lui è il 178esimo centro personale In questa stagione Ottima la difesa qui da parte Campus Subito la seconda fase per De Angelis Il tiro La girella Palla in gol Ancora De Angelis che ci denizza con dei gol Emanuele D'Agostino Questa roba bisogna saperla fare Perché fa parte del bagaglio di un giocatore O è tanta roba O siamo in una via di mezzo Guarda se mi dici La girella di Tommaso Quella bisogna saperla fare Cioè io penso che tutti i giocatori Debbano conoscerla Però il gol che ha fatto la partita Forse la partita prima Quella col Casal Grande Ecco quella è una roba Che è fuori dal mondo Quella è fuori dal mondo Quindi Secondo me bisogna saper fare tutto Ecco come il gol di Manolovic O il gol di Tommaso Ma quella col Casal Grande È qualcosa di Incredibile Veramente Cioè è una giocata fuori dal mondo C'è tutto Il Campus Italia è anche questo È anche perfezionare la tecnica individuale Perché poi Ecco Un gol al volo Quindi la lay-up classica del basket Piuttosto che una girella per un'ala Magari che sta tirando in caduta Verso l'esterno Si sta chiudendo l'angolo Devono far parte del bagaglio tecnico Poi è chiaro Ci vuole il talento Bisogna saperlo fare Così come lo fa magari Tommi De Angelis Io sorrido a sentire le vostre parole Perché noi abbiamo sgridato Quasi Tommaso Dopo quell'Euro-goal che ha fatto Perché noi Non abbiamo Non ci siamo concentrati su quello Che tutti Ha fatto il giro del mondo Un gol stupendo Noi ci siamo concentrati sugli errori Che ha fatto prima E dopo quel tiro Poi indubbiamente Se guardi quel gesto tecnico Guardi la girella Guardi il volo Bisogna saperli fare Bisogna sapere Che cos'è la palamana in generale Io ad esempio Non ho mai fatto gol così Perché non era nel mio bagaglio tecnico Quindi quando vedo questi gesti Fatti da questi ragazzi così giovani È bellissimo Bisogna però capirle anche Quando farle Quando servono Questo per me è fondamentale In un giocatore Loro hanno veramente dei grandi mezzi Adesso questi due qui in particolare Sono talenti puri E ce lo dimostrano ogni allenamento Non ogni partita Veramente in ogni allenamento Ma non sono gli unici Anche tutti gli altri In allenamento fanno delle chicche Che io anche in Serie A Ho visto raramente E lo stiamo rivedendo ancora Super gol Di Tommaso De Angelis Questa girella Per superare L'estremo difensore Della Verdi-Azzurro-Sassari Settimana di chiusura Per quanto riguarda Gli impegni stagionali È il campionato di Serie A2 Come detto Nella Campus Italia Ma settimana di grandi novità Invece Per quanto riguarda La palla a mano Azzurra La palla a mano femminile In modo particolare Chiederei alla regia Di supportarci con le immagini Perché è arrivata In settimana La notizia Della wild card Assegnata dalla Federazione Mondiale All'Italia Italia che parteciperà Ai campionati mondiali Under 20 femminili E dunque Eccolo qua Le immagini Che ci arrivano Dal sito federale FGH.it Italia che sarà In campo in Slovenia È la prima volta In assoluto Che una nazionale Italiana giovanile Partecipa Sia al maschile Che al femminile Ad una fase finale Dei campionati mondiali Italia che prende Il posto della Russia Per effetto Dei risultati positivi Con cui l'Italia Aveva comunque chiuso La sua fase di qualificazione Italia che arriva Dopo la vittoria Del campionato europeo Di seconda divisione Inserita nel girone C Con Danimarca Argentina E il Montenegro Sempre una grande notizia Insomma Quando poi succedono queste cose Sì 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 Guarda Matteo L'importante È partecipare Eserci Adesso Ci siamo arrivati Questa volta Con la wildcard La prossima volta Sono sicuro Che ci rivedremo Con i nostri mezzi Riusciremo a guadagnare Questa qualificazione Ma ciò non vuol dire Che magari A questo evento Riusciremo a dimostrare Chi siamo E fare risultato E magari le ragazze Possono prendere Consapevolezza Di loro stesse E usare questo evento Arrivato così Per meriti Diciamo Extra Fare una grande cosa A volte basta solo Un piccolo trampolino di lancio Questo potrebbe esserlo Anche perché Il girone È un girone Sicuramente difficile Quando si va ai mondiali È tutto difficile Chiaramente Però al tempo stesso Passano due squadre Su quattro Che vanno al main round Danimarca Argentina Montenegro La Danimarca È probabilmente fuori Classifica Rispetto alle altre tre Italia e Montenegro Si sono affrontate Nelle qualificazioni Il Montenegro Ha vinto Giocando in casa Solamente con due reti di scarto L'Argentina È oggettivamente Almeno sulla carta Un passettino Indietro Soprattutto da un punto di vista Femminile Meno in ambito maschile Dove è una squadra Che ha i campionati mondiali Dice sempre la sua Emanuele D'Agostino Ti chiedo un parere Su questa notizia Inserita nel contesto Perché Per i giovani Della palla a mano italiana È un'estate in cui Le ragazze adesso Giocheranno i campionati mondiali E questa è una notizia storica I campionati europei Maschili Under 18 ad agosto Under 20 a luglio Possiamo dire Che nel femminile Con l'aiuto della wild card Nel maschile invece Per meriti acquisiti sul campo L'Italia è entrata Almeno a livello giovanile Nell'elite Della palla a mano Europea e internazionale Possiamo dire Che sicuramente Sarà un'estate impegnativa E un'estate bella Perché è una cosa Anche Non inaspettata Però Ci può dare Quella spinta Che magari Ci è mancata Fino a questo momento Anche per i ragazzi Può essere Una spinta in più E credo che Come diceva prima Maione Quest'anno Ci siamo entrati Con la wild card Ma Ci possiamo entrare Benissimo Con le nostre forze Perché Stiamo dimostrando Anche a livello giovanile Che Che non siamo secondi A nessuno E quindi Io sono convinto Che sarà una bella estate Tutta da vivere Io le seguirò Tutte le partite Perché Seguire la nazionale È sempre È sempre La cosa Che metto per prima E Quindi Spero Ci daranno soddisfazione E credo Che ci daranno Tante soddisfazioni Quindi Vi faccio Un grosso In bocca al lupo A tutti Sia la maschile Che la femminile E Speriamo bene Maio È inutile girarci Troppo attorno Poi quando Comunque L'anno scorso L'Italia Under 19 Si è piazzata Al dodicesimo posto Agli europei Il che vuol dire Non stare Chiaramente Ai primissimi posti Non nelle primissime posizioni Ma stare tra le prime 16 d'Europa È tutta un'altra storia Rispetto al dover Lottare nella seconda divisione E salire E lottare per salire Nella prima È chiaro È tutto un altro appeal Anche i ragazzi Lo staff Tutti Quando vai a questi A questi eventi principali Il cuore ti batte forte Io ho tanta esperienza Ma non vedo l'ora di andare E i ragazzi Stessa cosa Ad esempio Io non ho mai fatto una cosa così A livello giovanile Quindi Posso solo immaginare Le emozioni che provano questi ragazzi Confrontarsi con le squadre Top al mondo La via per fare risultati A livello senior Tutte le grandi squadre nazionali Sono partite dai giovanili Quindi penso che abbiamo imboccato La strada giusta Ora dobbiamo correre Per arrivare A livello degli altri Perché sicuramente Siamo un passo indietro Ma stiamo dimostrando Di sapere Qual è la strada giusta Il sogno Ce l'hanno raccontato Tante volte I ragazzi del Campus Italia È arrivare A giocare La Champions League E la Champions League Quest'anno È arrivata In questa fase In queste settimane Ai quarti di finale Sono state giocate Le partite di andata Stiamo vedendo alcune immagini Della sfida di andata In modo particolare Tra il Paris Saint Germain E i tedeschi Del Kiel Si è giocata a Parigi La gara di andata Il primo match Dei due Che rappresentano E che caratterizzano I quarti di finale Parità 30-30 Ed è la partita Di cui stiamo vedendo Le immagini Che seguiremo La prossima settimana In diretta Su 11 Sports Il prossimo 19 maggio Con inizio alle 20.45 11 Sports.it Per seguire I grandi appuntamenti Della pallamano internazionale Chiedo a Emanuele D'Agostino Perché sono sicuro Che sia appassionato Anche di questo livello qua Se ha una preferita Magari In Champions League Io Sempre Di fatto Il Barcellona Per Modello di gioco Per giocatori Però Non lo so Quest'anno è molto dura Vedendo anche Chi Il Paris Saint Germain 30 pari È molto dura Sono tutte Sono tutte forti C'è il Chielce Buona Però io penso Che il Barcellona Se la meriti Barcellona Che è la squadra Che lo scorso anno Ha vinto Peraltro Per la Nona volta Nella sua storia La Champions League Dunque 11 Sports Ripeto L'appuntamento Della prossima settimana Le 20.45 19 maggio Il quarto di finale Di ritorno Tra il Kiel Formazione tedesca E il Paris Saint Germain La Final Four Di Champions League Invece Del 18-19 giugno Sarà trasmessa In diretta Su Sky Sport Adesso andiamo in pausa Poi con Pasquale Maglione E Emanuele D'Agostino Parliamo di Serie A2 Sì Qui al campus Stiamo già vivendo un sogno E forse a volte Fa anche un po' paura Perché sai Di dover essere Sempre all'altezza Sempre concentrato Sai che a questa cosa Stai dedicando giorni interi Allenamenti ogni giorno Sai che questo Vuol dire stare lontano Da casa Dato famiglia E i miei tuoi amici Però è un sogno E io lo voglio vivere a pieno Lo voglio inseguire Con tutto me stesso E sono sicuro Che questo valga per me E per tutti i miei compagni Quei al campus Italia In fondo Se uno i propri sogni Non li insegue A cosa servono? Conclusa la Serie A2 Delle squadre abruzzesi Tra gli uomini Lions Teramo Che si piazza Alla quarto posto Del girone B Salvezza Da batticuore Per la Hogan Pescara All'ultima giornata Chiude Ai playoff Promozione Senza però centrare L'assalto Di categoria Teramo Invece nel femminile Il servizio Quarto posto Per la Lions Teramo Salvezza Per la neopromossa Hogan Pescara E ancora Playoff centrati Per Teramo Tra le donne Tempo di bilanci Per le abruzzesi Della Palamano Impegnate quest'anno In Serie A2 Un bilancio Col segno più Soprattutto fra gli uomini Dove i teramani Del tecnico Marcello Fonti Quest'anno rinforzati In particolare Dal rientro inorganico Di Pierluigi Di Marcello Fra i pali E Alessandro De Angelis Nel ruolo di centrale Hanno confermato Il proprio ruolo Di primo piano Fra le compagini Del centro Italia Fotografia di fine anno Che dice 33 punti Gli stessi del Sassari Seppure con lo scontro diretto Sfavorevole E 17 vittorie Tra queste Anche l'andata E il ritorno Del derby Contro Pescara Per un girone B Che dopo lungo tempo È tornato ad offrire Anche una sfida Tutta di stampo Asbruzzese Quanto ai bianco-azzurri L'annata d'esordio In Serie A2 Dopo la promozione Dello scorso anno Non ha lesinato emozioni Salvezza conquistata L'ultimo sabato utile Con una vittoria di misura 29-28 In trasferta Sul campo dell'Ambra Formazione Toscana Ora per il club Allenato da Michele Mastrangelo È tempo di guardare al futuro Sul versante femminile Intanto la terramo di coach Serafino Labbrecciosa Ha salutato Con un pizzico di amaro in bocca La possibilità Di centrare la promozione Fermando la propria corsa Nella fase a gironi Delle finals di Chieti Infortuni E indisponibilità dell'ultima Ora hanno condizionato Il cammino delle bianco-rosse Appuntamento rimandato Ma l'intento Di ritrovare una piazza Di tradizione come Terra Moina 1 Rimane intatta Tornando agli uomini C'è un po' di abruzzo Anche nelle finals Che si apriranno Il prossimo 18 maggio Nella casa della Pallamano Sarà Emanuele D'Agostino Centrale originario Di città Sant'Angelo A trascinare La Santarelli Cingoli Verso il sogno Del pronto ritorno In Serie A Beretta Dopo la co-center Retrocessione dell'anno scorso Allora Emanuele Adesso parliamo Ovviamente Dell'appuntamento Che ti attende Dal 18 al 22 maggio Dunque la prossima settimana La Final Six Per la promozione Nel frattempo Cristallizziamo la classifica Con l'aiuto della grafica La classifica Del girone B Di Serie A2 Che si è concluso Con la vittoria Del girone Proprio da parte Della tua squadra Da parte del Cingoli Subito dietro Con una lunghezza De distanza In La Romagna Ti chiedo innanzitutto Però un parere Sul campionato Delle due squadre abruzzesi Sia Lions Teramo Che ha chiuso Al quarto posto Alle spalle Della verde-azzurro Sassari Appaiate le due squadre Ma Teramo Ha perso Entrambi gli scontri diretti E Pescara invece Che ha ottenuto la salvezza All'ultima giornata Retrocessione invece Per Casal Grande Bologna e Prato Ma diciamo che sono felice Per tutte e due le squadre Sia per Teramo Che per Pescara Forse un pochino di più Per Pescara Perché Giocano Giocano dei ragazzi Con cui ho avuto L'onore di condividere Il campo E quindi Penso che ha fatto Una grande stagione Anche Teramo E sono molto felice Perché Perché in Abruzzo Dobbiamo Dobbiamo ritornare A giocare A questi livelli Quindi è molto importante Riconfermarci Nel campionato Di Serie A2 E Pescara e Teramo L'hanno fatto Molto bene Alla fine Maione Un girone Molto equilibrato Come stiamo vedendo Dalla classifica Perché tra i 23 punti Del Camerano E i 21 Del Casal Grande C'è un gruppo di squadre Molto numeroso Ma non solo 21 punti Con cui Casal Grande Retrocessa Nel girone B Bastavano Per arrivare A metà classifica Ampia Nel girone A Girone Nord Della penisola E Probabilmente Per guardare Anche all'alta classifica Se vogliamo Nel girone C Ma sì Matteo Guarda Questo è un girone Dove l'anno scorso Le due squadre Che sono andate I primi e i secondi Sono salite in Serie A Io Scongiuri a parte Perché ora Chiaramente Si fanno gli scongiuri Credo che Anche quest'anno Queste due squadre Saranno protagoniste Ai playoff Cingoli sicuramente E Romagna Ha giocato tutto l'anno La pari con Cingoli Perdendo gli scontri diretti Di pochissimo Quindi credo che Anche loro So che hanno avuto Qualche infortunio Penso che alla fine Arriveranno in fondo In questi playoff Per quanto riguarda Teramo e Pescara Teramo è il secondo anno Consecutivo Che arriva a terzo Ripeto In un campionato Dove le prime due Sono salite in Serie A E quindi faccio veramente I complimenti a loro Ormai non sono più Una sorpresa Mentre per quanto riguarda Pescara Io non ero certo Perché hanno un centrale Niente male E quindi Ero certo che Si sarebbero salvate Va bene Parliamo di Teramo Dicevamo Di questa stagione Positiva Per la formazione Teramana Che si è piazzata Al quarto posto Un terzo posto Alla pari Ma abbiamo visto Nella prima parte Un gol di un De Angelis Diciamo il nostro De Angelis Quello del Campus Italia Ma il cugino Matteo De Angelis Che però di mestiere Fa il portiere Ha combinato questa cosa Qui nella partita Contro il Bologna United Vediamo le immagini Del gol Realizzato proprio Da Matteo De Angelis Nella sfida Contro il Bologna Marcatura uomo A tutto campo del Bologna Marcati a uomo tutti Tranne il portiere E allora il portiere Realizza questo cost to cost E insomma il gene De Angelis Di solito Quando ci sono Questi tipi di Marcatura uomo In tutto campo Si mette il settimo uomo In modo da lasciare Un uomo libero E lui è stato sveglio Perché non ha fatto il cambio E' andato lui Da solo Ci vuole un po' di Coraggio Brave art Come si dice in inglese E gli è andata bene E complimenti a lui Bel gesto Anche Ebner a volte lo fa Quindi magari E' anche scuola sua E' stato ispirato E' stato ispirato Si noi abbiamo anche Lubinati che ogni tanto L'allenamento esce Va perché vede Ebner che lo fanno Ed è bello vedere Che questi ragazzi Giovani guardano I grandi E fanno questi tipi di cose Ora gli consiglio Di non farlo spesso Perché potrebbe subire Conseguenze Però complimenti a lui Va bene Diciamo che è arrivato All'ultima giornata Con Teramo Con l'obiettivo Già acquisito Quindi va bene così Ci può stare anche Qualche colpo di testa L'ultima giornata Peraltro a Teramo Ha vissuto Una coda Particolarmente emozionante Anche in questo caso Chiedo l'aiuto Alla regia Vedendo le immagini Perché è stata La giornata di saluto Per due grandissimi nomi Grandissimi atleti Della palla a mano Teramana Ma direi Della palla a mano Abruzzese Ed italiana Sono Andrea Di Marcello Capitano del Teramo E Pierluigi Di Marcello Estremo difensore Del Teramo Che peraltro Ho la fortuna di conoscere Tu lo conosci molto bene Perché avete giocato A lungo in nazionale Anche con Andrea Avete giocato in nazionale Ma Pierluigi Di Marcello Siede accanto a me Nelle telecroniche Sky È il commentatore tecnico Delle telecroniche Legate alla palla a mano Su Sky Sport E insomma Hanno ricevuto Il saluto Della loro città Della loro squadra Due bandiere Della palla a mano Teramana Ma direi anche Della palla a mano italiana Quindi tributo giusto Sì Matteo Guarda Io penso che Uno sport piccolo Tra virgolette Ancora in Italia Come la palla a mano Ce ne fossero Di persone così Perché loro Oltre dare tanto in campo Durante l'arco Tutta la carriera Hanno insegnato A molti giovani E tuttora lo stanno facendo Come comportarsi Come stare sul campo Come stare fuori dal campo Veramente due Ragazzi speciali A cui io voglio Veramente bene Perché ho avuto Il piacere Di giocare con loro Sia con Andrea Sia con Pierluigi Sempre Umili Intelligenti Veramente Non lo dico Perché sono qui in televisione Ma lo dico perché Lo penso dal cuore Emanuele Io Credo Che tu In primis Speri di non affrontare Teramo Il prossimo anno Però Perché Per ritrovarti In Serie A 1 Naturalmente Però al tempo stesso Sono due pedine in meno Notevoli per Teramo Due grandi giocatori Due grandi uomini Sì Innanzitutto Spero Spero di non incontrarli L'anno prossimo Perché Non era quello L'obiettivo Per quanto riguarda Pierluigi e Andrea Secondo me Sì Cioè Vanno Si ritirano Due Due grandi Due grandi In tutto In primis Come giocatori E poi Come Anche simboli Ormai Di Teramo Perché Quando vai a giocare Contro Teramo Giochi contro Di Marcello Quindi Contro i fratelli Di Marcello Quindi È sicuro Sicuro Un peccato Però Purtroppo Arriva per tutti E quando Poi Si ritirano Queste persone Dispiaci No? Questi giocatori Che ti possono Sempre dare tanto Sia in campo Che fuori E quindi Mi faccio un Grande in bocca al lupo Per il futuro E Niente Le abbiamo Visti nella foto Con Franco Chionchio Nel mezzo Il presidente Della Lions Teramo Ma anche Presidente Del comitato Regionale FGH Abruzzo Quando hai detto Emanuele Purtroppo Arriva per tutti Annuiva Qui a fianco A me Pasquale Maiore Che Insomma Noi Parliamo di Serie A2 Continuiamo a parlare di Serie A2 Però adesso Con Emanuele D'Agostino È un argomento Che lo tocca Che lo tocca Da vicino Vediamo la grafica E vediamo le squadre Impegnate nelle FGH Finals Di Serie A2 Maschile Girone B Per la Santa Relicingoli Che dovrà affrontare Le guerriere malo Pardon La palla a mano Malo Guerriere malo È la formazione maladense Che gioca Nel campionato di A1 Femminile Malo Che è la formazione Invece maschile Sempre proveniente Dalla provincia di Vicenza E la Genea Lanzara Formazione che ha chiuso Al secondo posto Il girone B Squadra che arriva Dalle vicinanze di Salerno Banca Popolare di Fondi Arcom Formazione Veneta Di Camisano Vicentino E Romagna Invece nel girone A Le prime due squadre Di ciascun girone Giocano le semifinali Chi vince le semifinali Ottiene la promozione Nella Serie A Beretta Del prossimo anno Si gioca dal 18 Al 22 maggio Come vedete in grafica Nella casa Della Palamano di Chieti Con tutte le gare in diretta Sul canale YouTube Della federazione Emanuele D'Agostino Partiamo dal girone Partiamo dalle avversarie Malo e Lanzara Girone Se guardi i gironi Ti dico Sono felice Perché il girone Sicuramente il girone Di Arcom Romagna E Fondi E' una guerra infinita Quindi Noi giochiamo le nostre partite La prima ce l'abbiamo con Malo Io sono felice di questo Almeno L'affrontiamo da subito Perché penso che sia una delle squadre più forti di questi playoff E quindi Sono felice di affrontare subito il malo I pronostici Non li faccio Per il mio girone Però Nell'altro girone Penso che Sia tanto tanto difficile Ma Io non Non credo Che Romagna Arcom E Fondi Si possano Possano stare tranquilli Per il primo posto Ecco Per il primo e il secondo posto Cioè E' una lotta lì E' una lotta grande Eh si Tra l'altro Romagna è quasi una prima giunta Se vogliamo Ad Arcom E E alla Banca Popolare di Fondi Hai preparato già Hai fatto preparare La clac Che arriva da Città Sant'Angelo Per venire sugli spalti Della casa della Palamaro di Chieti Ovviamente Ho chiamato tutti Tutti Penso di aver chiamato Boh Non lo so Almeno L'elenco teleforico Tutto il paese 300 persone almeno Tutti Voglio tutti Perché E' un momento importante Per me E E per tutta la squadra Quindi Ci teniamo a fare veramente bene Davanti al pubblico Poi E' ancora più bello Fortunatamente Abbiamo La possibilità di Giocare davanti a un pubblico Bello come quello di Chieti In un palazzetto Stupendo come quello di Chieti E quindi E' molto importante questo Sicuramente la casa della Palamaro Sarà gremita Perché poi L'attenzione Per questi appuntamenti Di fine stagione E' sempre Molto molto alta E lo abbiamo visto Anche con le finals Di serie a due femminile Peraltro Con una delle squadre Arrivata in semifinale Che era Marchigiana Chiara Valle Che appunto Ha riempito Particolarmente Gli spalti Assieme a Teramo Che era ovviamente L'unica formazione Abruzzese impegnata Ma io anche a te Chiedo un Un pronostico Diciamo Su se è possibile Senza sbilanciarti troppo Però un pronostico Su queste finals Sì a due No ma io l'ho già detto prima Non è problema Di sbilanciarsi Secondo me Ripeto Cingoli sicuramente E' la squadra Su tutte Che io Vedo favorita Però Nonostante Detto ciò Nel girone Hanno due squadre Che hanno già L'esperienza Alle spalle Dell'anno scorso E non è poco Questo Perché sia Amaro L'anno scorso L'anno scorso è andata come una delle favorite E diciamo che ha sbagliato Nei playoff Io sono convinto Che quest'anno Hanno un'esperienza maggiore E vengono qui Perché il loro obiettivo Da un paio d'anni È salire E quindi Bisogna stare attenti A questa squadra Che ha dominato Nel girone nord E anche Lanzara stessa Sì Ha perso Manolovic Che per loro era importantissimo Ma nonostante questo Sono di nuovo qui A playoff E anche loro Hanno Una squadra Quadrata Un attore Che sa quello che vuole Della sua squadra E quindi Cingoli favorita Ma a girone Tostissimo Perché poi In questi appuntamenti qui Bisogna sempre stare Attenti Fino all'ultima giornata Perché Bisogna vedere quello che succede Anche durante il corso La manifestazione L'altro girone Sicuramente più equilibrato Ma ripeto Anche in quel girone Vedo favorita Romagna Che viene dal girone B Ma non conosco bene Le altre due squadre Quindi lì Mi posso sbilanciare Un po' meno Sono convinto anche io Che sarà più equilibrato 18-22 maggio Lo ripeto ancora una volta Nella casa della Palamano Di Chieti Il centro tecnico federale Ex Pala Santa Filomena Gare che saranno Trasmesse in diretta Sui canali ufficiali Della federazione Italiano Gioco Handball In modo particolare Su YouTube Ingresso libero Sugli spalti Del Palasport Abruzzese Le gare sono in programma Tutti i giorni Alle 15.30 La prima Alle 17.30 La seconda Comprese le due semifinali Di sabato pomeriggio Unica variazione di orario Per quanto riguarda La finale Alle 11.30 La sconfitta di domenica Di domenica mattina 22 maggio Con diretta peraltro Anche sui canali Di Rete Otto Sport Chiudiamo parlando di Serie B Perché è andata agli archivi La gara 2 Di semifinale Non ce l'ha fatta Il Città Sant'Angelo A ribaltare la sconfitta Di gara 1 Contro il Cussancona 23.18 Dopo gara 1 Per la formazione anconetana Che ha bissato il successo 31.21 Nella sfida Di ritorno Nel re-tour match Dunque sarà una sfida Tutta marchigiana A decidere La promozione In Serie A2 Tra Monteprandone E Cussancona Serie di finale Che si aprirà Nella prossima Fine settimana Noi siamo in chiusura Io ringrazio Emanuele D'Agostino Per essere stato con noi Grazie a te Matteo Grazie a Maione Grazie a tutti Grazie a Maio È sempre un piacere Essere qui Spero di vederti presto Di nuovo E noi ci ritroviamo La prossima settimana Con l'ultima puntata Della Casa della Pallamano Ultima puntata stagionale Del format Dedicato alla Pallamano Del Campus Italia Del Centro Tecnico Federale Alla Pallamano Italiana Buona Pallamano a tutti Alla prossima Terima puntata stagionale Alla prossima puntata stagionale Del